Oggi abbiamo fatto un pro di business plan di stamattina, è andata abbastanza bene, i giudici erano soddisfatti e felici dell'idea e anche della presentazione dei ragazzi. Abbiamo fatto anche dei feed che comunque ci serviranno anche per il prossimo anno per migliorare il lavoro, in caso in cui si voglia continuare con l'idea. In quanto riguarda le parti diciamo meccaniche elettriche, abbiamo iniziato le tech elettriche questa mattina, abbiamo avuto dei problemini, prima di risolverli nel box però ne sono andati altri e adesso ci sono cercano di risolverli, speriamo di risolverli entro stasera, in modo da una mattina iniziare a fare le tech per poi fare il design e costruire a volte in pomeriggio. Ok dai, 1, 2 e 3. Allora, abbiamo finito la presentazione, ci siamo molto, ho fatto qualche la presentazione, siamo stati bravi, abbiamo risposto alle domande, sono stati soddisfatti, hanno riso di chi è piaciuta, hanno detto che è bravissimo. Eravamo bravi, eravamo figli, semplicissimo che credevamo nella nostra idea e siamo usciti a trasmettere questa cosa. Eravamo molto soddisfatti su quasi tutti i punti della presentazione, hanno avuto veramente quasi nulla da dire, ma qualche dettaglio che... Cioè non tanto piccoli, ma arrivare comunque un po' di più su qualche punto. Sì, magari essere... L'arrivo dovuto usare più di più. Ecco, volevamo che usassimo di più, però questo significa che... È uno stimolo per qualche po' di più. Quindi speriamo bene, vediamo se domani, come l'iggio dovremmo spiegare il caldo. Speriamo di no, cioè speriamo di sì, speriamo di sì, speriamo di sì, non il caldo ma... Speriamo!